Palla lunga di Mike Vignon che va a cercare l'assist di Mike per Rafa Eccolo qui Rafa che se ne va, Rafa che se ne va Guardi Rafa e Leao, prepotente e decisivo Assist di Vignon, guardi Leao, tutti ad abbracciare Mike Fantastico, fa gli assist a livello di oggi